Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi 18 luglio 2022 ho comprato al prezzo di 12,99 euro questo mini saldatore a stagno ricaricabile con una batteria integrata ed è veramente molto piccolo. Questo è il modello PLKA4B3 prodotto dalla Grizzly il 12 del 2021. Vi dico subito una cosa non dovete fare l'errore di paragonare questo tipo di saldatore a qualsiasi saldatore da banco anche di bassa qualità o livello hobbistico come ad esempio i due modelli che fa la Parkside che se volete vederli trovate i video nel canale, le stazioni di saldatura. La destinazione di questo tipo di saldatore è per fare piccolissimi lavoretti in zona dove abbiamo poco spazio o dove non abbiamo la possibilità o ci serve la comodità di non collegarci direttamente all'alimentazione di rete. Per esempio stiamo facendo un impianto audio della macchina, non ci conviene tenere un saldatore di rete sempre collegato e sempre alimentato e sempre caldo. Ci serve un saldatore che è spot, magari ora lo uso per due punti, poi fra 10 minuti lo uso per altri due punti. Ci serve per fare un bel impianto elettrico, un bel impianto audio, qualsiasi cosa. Oppure siamo degli installatori, per esempio caldaie, qualsiasi cosa. Dobbiamo fare delle reparazioni sul posto. E un saldatore di questo, così anche come quello a gas che fa la Parkside, ci può tornare utile anche in essenza della corrente elettrica. Quindi per fare piccoli lavoretti, però ve lo vedremo durante il video e magari approfondirò meglio questo discorso a fine video, nelle conclusioni. Avviciniamo subito la telecamera, vediamo com'è fatto e poi facciamo qualche prova per capire cosa possiamo fare con questo saldatore e soprattutto per quanto tempo lo possiamo utilizzare prima che si scarica completamente la batteria interna. Allora, parliamo subito del manuale così lo leviamo di mezzo che è veramente incombrante. All'interno c'era il manuale diviso in tanti foglietti che però quando dobbiamo leggerlo dobbiamo comunque assemblare come se fosse un piccolo libricino perché ci sono le pagine 1, 2, 3, 4 e parte di una lingua sta in una pagina e nell'altra. Cioè non c'è un foglio tutto in italiano, non ho capito perché hanno fatto questa confusione. Comunque, mettiamo quindi da parte il manuale, magari poi lo prendiamo stata facendo. Confezione, saldatore ricaricabile PLKA4B3, 3 anni di garanzia, aggiornato nella versione B3 con alcune particolarità che vedete nel video, con potente batteria agli ioni di litro. Io ho avuto la versione, la versione se non sbaglio precedente, non mi ricordo se era B2 o A2, era un po' diversa, aveva qualche piccola differenza. L'ho lasciato a casa di mio padre perché avendo diverse stazioni saldanti e avendo ora un garage più piccolo non mi serve più. Con potente batteria agli ioni di litro, design ergonomico con impugnature in gomma, illuminazione a LED, rapido riscaldamento iniziale e indicazione LED dello stato pronto all'uso. Stazione con appoggio integrato dotato di spugna per la pulizia della punta del saldatore. Incluso cavo di ricarica USB di tipo C, di un metro. Batteria interna è da 4V 1.5Ah, raggiunge una temperatura massima di 470 gradi in 30 secondi. All'interno c'è pure un rocchetto di stagno che, così come gli altri saldatori della Parkside, se non volete imbazzire e se non volete pregiudicare il risultato della saldatura, prendetelo e buttatelo. Non lo utilizzate nemmeno per provare, fate finta che non esista. Quindi se andate a comprare questo saldatore, passate da un negozio cronico di elettricità e comprate uno stagno di buona qualità. All'interno delle confezioni troviamo quindi questo che state vedendo. Il nostro saldatore, una punta filettata con attacco i 10 e su questo ci torneremo dopo. Una basetta con una minuscola vaschetta e una minuscola spugnetta per pulire la punta del saldatore. E' un cavo, che questo è solo per la ricarica, non è un cavo dati, USB USB di tipo C. Parlando immediatamente del discorso del cavo di ricarica, che noi colleghiamo qui, in teoria quello che dice il manuale è utilizzare solo ed esclusivamente il caricabatterie originale Parkside, che non è fornito, e dobbiamo acquistare collegandoci al sito della Grizzly Tools, pagare 12,90€ di caricabatterie e farcelo spedire con circa 18€ in più. Quindi praticamente se dobbiamo rispettare ciò che dice il manuale, questo saldatore da 12,99€ ci viene a costare quasi 40€. In realtà il caricabatterie citato è un classico caricabatterie da 5V, non sono nemmeno gli Ampere, ma gli Ampere diciamo sono irrilevanti perché quello che comanda è la richiesta dell'utensile. Anche se noi abbiamo un caricabatterie da 2A o da 3A, qualsiasi sia l'amperaggio massimo del caricabatteria, è lui chiedere 1, 1,5, 2A. Quindi probabilmente questo discorso, così come stanno facendo ultimamente, di mettere e utilizzare solo con il caricabatterie originale codice X, più che altro è o per dire, io ve l'avevo detto, se non funziona è colpo tuo che non ho utilizzato il caricabatterie originale, oppure per vendere il caricabatterie originale. Però è una mossa un po' strana, anche perché se il caricabatterie mi costa il doppio dell'utensile. Vabbè, comunque lasciamo stare questo particolare, quindi mettiamo da parte il filo. Troviamo una punta con attacco filettato E10, che ricorda le lampadine delle vecchie torce, vecchie tra virgolette perché io ho una torcia Atex che ha questo tipo di attacco, e si avvita semplicemente avvitandolo, senza stringere esageratamente, non utilizziamo pinze, lo facciamo a mano. La punta non è per niente fina, e questa punta di ricambio, così come è scritto sempre nel manuale, la troviamo nel sito della Grizzly Tools e costa 6,50€, addirittura ho trovato un elenco per quantità che più ne comprate e maggiore lo sconto. 10 pezzi arrivano a costare 5,90€, quindi il risparmio è molto poco, però li ho cercate su Amazon, scrivendo punta per saldatore, attacco i 10, e lo trovate, ma il prezzo non cambia, è sempre intorno ai 6€ a punta, però avete la possibilità di acquistare punte un po' più fine o con forme diverse a scalpello, comunque sono sempre 6€ a punta. Strano che su questo saldatore, che l'idea non è male, hanno utilizzato questo tipo di punte, non le punte degli altri saldatori della Parkside, che comunque pur non essendo punte professionali come quelle di un saldatore come questo, per esempio, lasciate stare che è molto bruciata, questa è quella ormai vecchia, comunque facevano il loro dovere. Quindi una bella miglioria sarebbe, già ci sono state delle migliorie, e ora le vedremo riguardo alla gestione della temperatura, dell'accensione, eccetera, un ulteriore upgrade è rendere questo saldatore compatibile con le punte delle stazioni saldanti della Parkside. Abbiamo questa basetta, che a differenza dei modelli precedenti, è semplicemente una basetta, non è una basetta di ricarica, infatti qua vediamo che manca il connettore maschio USB di tipo C, o micro USB, se non sbaglio era prima micro USB, e hanno aggiunto una piccola vaschettina dove possiamo appoggiare questa spugnetta, più che altro è un foglio sottile sottile, però ora questa qua quando si bagna confia un po', per pulire il nostro saldatore. La basetta tiene il nostro saldatore in piedi e possiamo inserirlo anche caldo, perché comunque le pareti di questo foro sono di metallo, ci sarà un lamerino sottile sottile. Va bene, abbiamo lasciato per ultimo la cosa più importante, ecco il nostro saldatore ricaricabile e soprattutto portatile. Allora, guardate che piccolino, molto simpatico, molto buona l'impugnatura, da impugnare tipo a penna, guardate c'è questa sagoma qua dove noi andiamo a appoggiare il nostro pollice, l'indice va sul tasto di accensione, e quest'altro dito, guardate, trova posto perfettamente qui, l'impugnatura è veramente molto comoda. Come per tutti gli utensi di Parkside, quello che vedete di nero è tutto gommato, anche qui nella parte più alta. La punta l'abbiamo già vista, ma ora che abbiamo un'inquadratura più stretta, vi faccio vedere che la punta semplicemente chiude il contatto tra la parte centrale e la filettatura, come le lampadine che sfruttano l'attacco E10. Un LED di stato che funziona sia in fase di carica, rosso quando sta caricando, e verde quando la carica è completa, e sia quando utilizziamo il nostro saldatore. Come funziona quindi il nostro saldatore portatile? Abbiamo un solo tasto. Vedete, a differenza dei modelli precedenti c'è un solo tasto. Per accenderlo lo teniamo premuto 4 secondi. Si accende la luce rossa. Dopo circa 30 secondi questa luce diventerà verde, ciò significa che la punta del saldatore è arrivata a temperatura. E come vedete la luce frontale rimane sempre accesa. Verde. Questi sono i secondi necessari al riscaldamento della punta. Come vedete, rispetto ai modelli precedenti, non è necessario tenere premuto il pulsantino. Parkside ha migliorato questo particolare, rendendo questo saldatore un po' più pratico da utilizzare. Quindi se noi dobbiamo fare 3-4 saldature consecutive, rimane acceso e manterrà sempre la temperatura giusta per saldare. Se lo dobbiamo spegnere, una pressione singola e si spegne completamente. Se la dobbiamo riaccendere, 4 secondi premuto e si riaccende. Dovrebbe impiegare molto meno tempo ora per arrivare a temperatura, essendo che già è caldo. E invece no, oppure essendo già caldo. Ok, ha impiegato lo stesso tempo per arrivare a temperatura. Vediamo, facciamo un'altra prova. Spento e riacceso subito. No, sempre 30 secondi. L'elettronica sarà studiata per dare 30 secondi di luce rossa e poi luce verde, senza vedere se la temperatura è già stata raggiunta o meno. Ora però vedremo se durante le prove di saldatura, l'utilizzo continuo del saldatore farà raffreddare la punta e vediamo se in qualche modo qui verrà indicata la fase di riscaldamento con l'accensione della luce rossa. Questo lo vedremo ora nel corso delle prove. Non c'è un'indicazione dello stato di carica. Ed è quindi per questo che, secondo me, questo tipo di saldatore è indicato per piccoli lavoretti. Spot lo utilizziamo 5-10 minuti, abbiamo finito il lavoro e poi lo mettiamo sotto carica. Quando è sotto carica, non può essere utilizzato. Allora, non appena si spegne, raffredda veramente in pochissimi secondi. Proviamo ad accendere. Allora, prima cosa da fare, prima di iniziare la prova, è stagnare la punta. Riempirla un po' di stagno. Ok, temperatura raggiunta. Considerando che c'è questa piastrina di metallo che praticamente mi fa dissipare tanta temperatura, quindi il controllo della temperatura è solamente interno per evitare che la punta riscalda troppo e che comunque si danneggiano i componenti. Non c'è nessuna indicazione esterna che sicuramente poteva essere utile per fermarci un attimo nel caso in cui la punta non aveva la temperatura giusta per saldare. Non ho dimenticato di preparare la spugnetta. Lasciamo l'acceso. Allora, a questo punto farò le prove senza spegnerlo. Anche nei tempi morti calcolo la durata totale di quanto rimane acceso. Ora preparo qualche giunzione da fare volante senza andare troppo nel dettaglio della tipologia di saldatura, della tecnica. Sono un hobbista, non capisco come si salda, non conosco le tecniche di saldatura. Facciamo finta di andare veloce veloce a saldare senza troppi problemi. Allora, per ora faccio senza intreccio. Questo è il classico cavo di massa che si trova in utilizzo casalingo. Riscaldo un po' il rame e mettiamo un po' di stagno. Comunque la spessore del cavo non è proprio sottile sottile e sta riuscendo. Facciamo questa giunzione senza nessun intreccio. Verrà bruttissima, però proviamoci. È una schifezza perché è venuta veramente larga, però la saldatura c'è, stavo spellando. Allora, quindi, visto che stavamo spellando, è intreccio, intreccio, il saldatore è sempre acceso. Riscaldiamo un po'. Eh, si è spento. Si è spento. 11 minuti di video. Sto leggendo. 11 minuti di video. Però non mi ricordo se avevo fatto un taglio dopo le prime scene. Ora, comunque, vi metterò qua sopra il tempo reale di accensione. Non so se si è spento perché ha un timer interno o perché si è scaricata la batteria. L'ho subito riacceso e sta continuando a funzionare. Vediamo. Come vedete, io ho iniziato a saldare con la lucina rossa. Probabilmente aveva un timer che dopo 10 minuti si spegne automaticamente. Allora, la cosa che mi sta fregando è che io sto guardando il display per fare questa saldatura. Peraltro pessima. Faccio tutto il cavetto bello caldo perché l'ho tenuto parecchio tempo. Allora, ancora è acceso. Siamo a 13 minuti di questo video. Ed è ancora acceso. Basetta millefori. Vediamo di poter saldare un piccolo componente. Nonostante la punta sia grossa. Però dai, si riesce. Ok, fatto. Ok. Qualche componente in SMD, dubito che riesco a farlo senza distruggere il circuito. Anche perché la punta è troppo grossa. Allora, l'ho dissaldato o l'ho strappato? No, l'ho dissaldato. Proviamo a risaldare. È ancora acceso. Allora, io non so cosa state vedendo voi. Però sono riuscito anche a saldare un componente in SMD. Allora, vediamo se riesco. Anche se è venuto un po' sollevato. Però, l'ho saldato senza distruggere tutto quello che c'è intorno. Ragazzi, ancora è acceso e sto leggendo 17 minuti di video. A questo punto, che faccio? Stacco il video e inizio a cronometrare per vedere quanto tempo rimane acceso dopo che stacco il video. Allora, 3 minuti, 18 più 3, si è spento. Vediamo se è perché ha superato nuovamente i 10 minuti o perché si è scaricato. Serie è acceso. Vediamo. Quindi, praticamente, intanto ha un timer che lo spegne automaticamente dopo 10 minuti di accensione. Siamo a 18 più 4, quindi 22 minuti che è acceso. È tornato verde e sta continuando. Allora, col timer siamo arrivati a 5 minuti. Dato che non ne vuole sapere di spegnersi, vediamo la temperatura che ha attualmente. 30 gradi, temperatura ambiente. Questa è una sonda da contatto. Qua siamo a 8 minuti più 18 di prima. Allora, diciamo che queste sonde a contatto non sono mai precise. Però, se 3,40 è un valore giusto, diciamo che potrebbe andare bene per la tipologia di lavori che vi ho fatto vedere in questo video. Considerando che nelle stazioni saldanti della Parkside, se non sbaglio, possiamo iniziare a saldare dai 200-220 gradi in su. In genere si tengono i 360-340 gradi. Quindi, come temperatura, se dice la verità, potrebbe starmi anche bene, 3,40, per utilizzare stagno di uno spessore non troppo elevato e per fare piccoli lavoretti come quelli che avete visto. Allora, ragazzi, mi arrendo. Non posso aspettare che si scarica, perché nel garage sta facendo veramente tanto caldo. La temperatura, come vedete, la tiene costante. Siamo a 18 minuti più 10, quindi 28 minuti e mezz'ora che questo saldatore è acceso. Mi sta bene. Peccato non avere un'indicazione dello stato di carica per capire effettivamente quanto mi rimane di autonomia. Io comunque ora lo continuo a tenere acceso. Andiamo a fare le nostre conclusioni. Allora, ragazzi, è ancora acceso. Siamo a 12 minuti più i 18 iniziali. Quindi mi aspetto, siccome è la terza volta che raggiungo i 10 minuti, mi aspetto che si spegne. Cosa dire, questo piccolo saldatore mi ha un po' sorpreso. Più che altro perché non mi aspettavo grandissime prestazioni paragonabili a un saldatore da banco. E non è paragonabile un saldatore da banco. Però per tutti quei piccoli lavoretti dove magari non ha senso uscire un saldatore professionale oppure non vogliamo andare a scomodare il saldatore da banco o non vogliamo utilizzare prolunghe e cose varie, per tutti questi piccoli lavoretti il suo dovere lo fa. Piccole saldature, magari sto montando un gondamarche all'interno della carenatura della moto. Non ho voluto smontare magari la carenatura, smontare solo il cruscotto. Devo fare solo due punti di saldatura piuttosto che andare a prendere dallo scaffale il saldatore. Un saldatore come questo, farlo scaldare, eccetera eccetera. Prendo questo, 30 secondi per scaldare, do i due punti di saldatura e lo poso. Ma anche se faccio un lavoro così semplice ma un po' più duraturo, stiamo vedendo perché è ancora acceso, 18 più 13 minuti, si è spento perché è la terza volta che ha superato i 10 minuti. Vediamo se si riaccende e si è riacceso. Quindi già abbiamo mezz'ora di autonomia. È vero, utilizzandolo si dissiperà calore e se avrà un termometro interno che vede la temperatura della punta possibilmente consumerà più batteria. Però mezz'ora di stand-by con la punta sempre calda a 350 gradi mi sta bene. È vero, 12,99 euro, sì, e le punte 6 euro, arriviamo a 20 euro, il caricabatterie 10 euro, 12 euro, arriviamo a 30, 35 euro. Io avrei preferito spendere 30 euro e avere il saldatore, due punti di ricambio e il caricabatterie incluso. Meno sbattimenti, meno problemi a cercare a destra e sinistra punte e consumabili. Va bene ragazzi, allora, non si sta spegnendo. Siamo a 18 più 15 minuti, abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora Per me già va bene così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!